Primi tre punti del 2022 con un Montevarchi che però non ha demeritato e per alcune fasi del match vi ha anche messo in difficoltà. Mi sembra che io l'avessi detto in settimana, il Montevarchi è stata la squadra che mi ha più impressionato nel giro dell'andata. Ha sempre contro di noi, ha fatto una grandissima partita l'andata e oggi è venuta qui a giocarsi la partita. Fin tanto che giochi con queste squadre qui dove ti fanno giocare, poi magari la qualità esce fuori anche se oggi loro avevano qualche giocatore fuori. Però hanno giocato la loro partita, certamente noi abbiamo fatto di tutto per crearci dei problemi perché obiettivamente i due gol che abbiamo preso al di là di quello non abbiamo rischiato assolutamente nulla. Per cui è vero che loro hanno fatto una buona partita ma è anche vero che noi abbiamo fatto un po' tutto da soli. Nel secondo tempo potevamo farne qualcuno in più di gol. Ci manca sempre l'ultimo passaggio, l'ultimo minuto, facciamo la cosa sbagliata e dobbiamo migliorare ancora lì. Tante note positive perché credo che oggi Derisio abbia dimostrato il suo valore in campo. Ferrari credo che ha fatto una grandissima partita così come Nicola Rauti, è mancato un pizzico di fortuna al ragazzino appena entrato che poteva far gol. Ma hanno giocato tutti quando è una buona partita, ci vuole un po' più di attenzione perché nelle due disattenzioni abbiamo preso due gol. Io dico l'ultima sulla partita, quella che secondo me è stata la pecca del Pescara di questa sera perché comunque quattro gol segnati ne potevano essere di più. Ecco, proprio la pecca è che come giocava il Montevarchi ti concedeva tanto. Il Pescara doveva sfruttare meglio il campo alle spalle del Montevarchi. Sì, sì, ma non è che non l'abbiamo sfruttato. L'abbiamo anche sfruttato perché siamo arrivati diverse volte a mettere la palla giusta nel momento giusto e l'abbiamo sbagliata. Sulla sinistra abbiamo fatto tante incursioni e poi magari all'ultimo minuto abbiamo sbagliato, all'ultimo secondo abbiamo sbagliato il passaggio decisivo. Però ci siamo arrivati tante volte in porta. La squadra ha giocato la sua partita. Sicuramente dopo un mese di stop qualche dubbio su come poteva andare ce l'avevamo, però siamo andati abbastanza bene. Parliamo di mercato e di società e poi linea in studio a Massimo e a Fabio per le domande. Comincio dal mercato. Ferrari ha fatto una grande partita, è vero, anzi verissimo, al pari di Rauti, però De Marchi non è stato preso in considerazione. È un chiaro segnale di una cessione imminente? No, no, perché oggi è toccato a lui non entrare, la prossima volta magari toccherà a qualcun altro. Non è detto che perché non è entrato oggi, sono stati giocatori che non hanno fatto 4-5 partite di fila e oggi sono protagonisti. Per cui bisogna farsi trovare pronti quando il mister li chiama. Come va la situazione con Galano Rizzo e Marilungo? Ci sono sviluppi? No, al momento no, c'è qualche richiesta per Marilungo, il direttore sta parlando con qualche squadra, Galano e Rizzo non abbiamo ancora notizie. Mi auguro anche per loro che si possano accasare da qualche parte perché sarebbe un peccato stare fermi per loro per sei mesi, però purtroppo non è di peso dalla nostra volontà. Ha detto in un'intervista rilasciata il collega Giovanni Tontodonati sul quotidiano del centro, tra un mese potrei cedere, l'ultimo mese di presidenza di Sebastiani? Ma io sto facendo di tutto, devo dire la verità, sto facendo di tutto per cercare di trovare una soluzione alla società, sia con il mio abbandono completo che magari restando per una parte, per un periodo. Manager tre anni? Ma manager, io mi sento una persona normale, quindi non faccio il manager da nessuna parte, se ci sarà bisogno darò il massimo che non ho sempre fatto in questi tredici anni, perché lo dico con orgoglio, se il Pescara oggi è ancora qui è merito del sottoscritto. Parole molto forti quelle del Presidente, Massimo a te per una domanda e poi a Fabio Ferraresi, il Presidente all'auricolare vi ascolta. No, proprio per restare in tema, prima della domanda di Fabio, si parla di un fondo inglese, anzi di un fondo americano con base in Inghilterra, ma è così oppure sono solo voci destituite, insomma di qualsiasi fondamento? Sono solo canzonette. Stop, così, lapidario, telegrave. Quando sarà il momento saprete tutto, conoscerete le persone, ci saranno dei volti oltre che delle chiacchiere. Però siamo vicini, cioè questo vogliamo capire, è vero a fine febbraio che ci potrebbe essere... Queste sono situazioni che non richiedono un tempo limitato, richiedono un tempo perché ci sono dei passaggi da fare, ci sono delle due diligence da fare, uno può dire quello che vuole ma poi alla fine tutto va riscontrato e quindi il tempo tecnico ci vuole. Per cui auguriamoci solamente che questa cosa vada in porto, perché io me la auguro per quanto mi riguarda, perché è giusto che ci sia un ricambio, è giusto che qualcun altro si impegni anche per il Pescara. Mi sarebbe piaciuto magari trovare qualcuno del posto, non è così, non è possibile. E quindi come magari succederà, è successo e succederà per altre società italiane, magari ci saranno anche degli altri imprenditori non italiani disponibili a darci una mano. A un passo sacco, abbiamo letto, ad un passo sacco alla sernitana, sacco ad un passo dalla sernitana, un giovane difensore della primavera, ci può dire qualcosa in più il Presidente, smentisce? Non mi risulta nel modo più assoluto, ripeto, ho parlato fino a due minuti fa con Matteassi e non ho detto nulla di tutto questo, per cui non mi risulta. Però il giocatore è in scadenza? Il giocatore non è in scadenza, il giocatore ha il contratto di addestramento tecnico e quindi a seguito dell'addestramento tecnico, poi c'è quest'anno che viene chiamato addestramento tecnico per consentire alla società di valutare il giocatore e poi eventualmente proporre il primo contratto da professionista, così come c'è la Chiarella, come c'è la Sorrentino, come ce l'hanno altri. Ecco, io faccio un'altra domanda. Presidente, una domanda, sì, no, è stato chiaro sull'argomento, per carità, è un 2003, lo ricordiamo, sacco. Siccome, insomma, da quello che si è capito, l'obiettivo del Pescara in entrata devono uscire certi giocatori, abbiamo detto Marilungo, Galano e Rizzo, soprattutto davanti Marilungo e Galano in questo momento, poi vedremo, punto interrogativo, su De Marchi e Bocic. L'obiettivo è quello di prendere sul mercato un attaccante che abbia caratteristiche diverse da Ferrari, ovvero che sia un po' più tecnico, mi corregga se sbaglio, Presidente, e più incline all'attacco della profondità dello spazio. Allora io mi chiedo, ma insomma, vale proprio la pena creare una competizione con Ferrari, che oggi ha risposto, con un'altra doppietta, una grande partita? Mi hai fatto una domanda e ti sei dato già la risposta, perché quando ho detto la settimana scorsa che noi facciamo operazioni se ci saranno delle uscite, se qualcuno chiederà di andare via, è anche per numero, perché noi siamo assolutamente soddisfatti dei giocatori che abbiamo. Oggi non ha giocato De Marchi, ma non è per questo che De Marchi è uno che abbiamo accantonato. Ferrari sta facendo un campionato straordinario e noi ci dobbiamo creare il problema. Noi ci creiamo a Pescara, ci creiamo sempre il problema di andare a trovare quello che non abbiamo. L'erba del vicino è sempre più verde. Noi siamo bene così come stiamo, se dovesse capitare di fare operazioni in uscita, noi faremo sicuramente qualcosa in entrata, come ho sempre detto. Poi è chiaro che se prendi un giocatore, devi prendere un giocatore che ha altre caratteristiche, perché non è che poi prenda uno che ha le caratteristiche di Ferrari che sta facendo così bene.